eccoci qua buongiorno a tutti siamo sempre qui nella villa di maria la villa che affaccia sull'isola di capri maria cosa stai cucinando oggi ma guarda qua hai fatto beef ma che bella che sei maria oggi ti sei messo questo bel crembio lino più moderno come bello questo questo crembio lino è spettacolare sembri una ragazzina maria sembri una ragazzina la carne che abilità che a maria che abilità ma tu hai lavorato veramente lavorato nei migliori ristoranti stellati erano ristoranti stellati brava maria sei il numero uno di tutti i migliori chef del mondo va bene maria allora saluta i nostri followers ciao buona domenica maria buona domenica ciao grazie ciao ciao ciao